Mercato scopiettante per il città di Sant'Agata. La squadra del presidente Antonio Ortoleva, dopo Angelo D'Angelo e Riccardo Ferrara, ha ufficializzato l'ingaggio di Filippo Tiscione. L'attaccante palermitano, che compirà 34 anni tra un paio di giorni, proviene dal Casarano in Serie D. Nel suo curriculum vanta importanti e prestigiose esperienze in Serie B con Ternana e Matera e in Serie C con Siracusa e Fondi. Stiamo cercando ancora di migliorare ove possibile questa squadra. Qualche giocatore ha chiesto per motivi magari anche personali come Gino Giardina di avvicinarsi a casa per delle questioni personali. Qualcun altro è stata magari una scelta della società, fatta sempre insieme ai calciatori e abbiamo cercato di prendere il meglio ove possibile di quello che il mercato ci offrisse. Ad oggi è arrivato Angelo D'Angelo, è arrivato Riccardo Ferrara, è arrivato Filippo Tiscione, tre giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Il progetto che si sapeva che era dall'inizio ambizioso, tramite qualche amico che giocava con me come Salvatore Mincica mi ha detto che era una società seria e onestamente ho visto la serietà che purtroppo non si vede in tante società questa. Per cui giocare vicino a casa per me e stare in una società seria che ha ambizioni importanti per me è stato quello che mi ha convinto. Per cui avendo anche una squadra forte con gente di categoria superiore non ci ho pensato due volte e sono venuto qui con tanto entusiasmo.